Al via il rifornimento straordinario grazie all'ACA con i comuni, con autobotti e rastrelliere per far fronte alla mancanza d'acqua nei centri dell'area metropolitana. A Chieti e Chietiscalo si provvede con cisterne, un autobotti a servizio di palazzi dotati di autoclave in piazza Carafa, un servizio mobile disponibile dalle 8 alle 20 per attivarlo. C'è il numero verde 800 800 838 oppure il sito dell'ACA. Rastrelliere fisse per la distribuzione. I cittadini sono invece nel parcheggio coperto del terminal di via Gran Sasso dei bus e in via Terno, gli orari 9.13.17.20. Il sindaco Diego Ferrara. Sindaco, qui siamo al parcheggio di via Gran Sasso, al terminal dei bus e dietro di lei c'è questa cisterna a cui i cittadini possono venire portando delle tanniche per rifornirsi d'acqua e non solo qui. Quali sono gli altri punti in città? Allora, l'altro punto di recipiente, questo è un recipiente di 2000 litri di acqua potabile, l'altro recipiente di uguale capienza è situato nel capannone, in un capannone di via Aterno 181, nella prospicienza dell'area di operatività di formula ambiente. Questi due recipienti servono per l'approvvigionamento di acqua potabile, mentre ci sono autobotti itineranti per rifornire i palazzi che hanno l'autoclave e che vengono chiamati dai cittadini stessi attraverso il numero verde. Questa decisione è stata presa ieri dopo la riunione con lo staff tecnico dell'ACA che dopo averci messo al corrente minuziosamente di tutte le criticità per l'approvvigionamento idrico che stiamo tutti sopportando, ci hanno detto che per alcune settimane questo è l'unico modo per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Per far fronte il più possibile all'emergenza idrica che interessa la città di Pescara dopo le polemiche dei giorni scorsi, due serbatoi di acqua potabile sono stati allestiti dall'ACA, riferito all'assessore Eugenio Seccia, e montati al Pala Rigopiano 5.000 litri e al Pala Elettra 3.000 litri. Da oggi alle 8 saranno entrambi operativi e continuamente ricaricati per il prelievo d'acqua da parte di chi ne avesse bisogno. Il rifornimento potrà essere effettuato ogni giorno fino alle 20.00. Sul posto il Comune garantirà la presenza della protezione civile per evitare eventuali assembramenti. Autobotti anche a Città Sant'Angelo, nella palestra della scuola Fernando Fabiani, a Silvi, palazzetto dello sport di Via Po, palestra della scuola Pascoli di Via Carducci.